fratelli e sorelle buona giornata pace del signore amici cari dio vi benedica grazie al signore per questo nuovo giorno lo diciamo sempre forse è diventato qualcuno un'abitudine magari può sembrare una ripetizione però io credo che in giorni come quelli che stiamo attraversando di piena emergenza sanitaria ci rendiamo conto più che mai del fatto che la vita è un dono del signore e che dobbiamo essere grati a dio perché ogni giorno che possiamo aprire gli occhi vedere questo mondo e magari affrontare la giornata in piena salute o giù di lì è una grazia del signore benedetto sia dio per come ci aiuta anche per come ci sta a fianco quando attraversiamo momenti di difficoltà anche da un punto di vista fisico magari tra chi mi ascolta c'è chi non è in piena salute coraggio il signore è a fianco a quelli che lo invocano e può stendere la sua mano sulla tua vita magari anche per guarirti in questo momento perché dio è capace di compiere questo tipo di segni miracolosi lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi considerando come dio accompagnava gli apostoli della prima ora e noi sappiamo che gesù è lo stesso ieri oggi in eterno e che quello che faceva nel passato lo può fare ancora oggi continuiamo la nostra lettura del capitolo 20 degli atti leggiamo la prima parte del discorso di paolo e gli anziani di efeso diversi da 17 fino a 31 discorso con il quale paolo si congeda da questi anziani perché sa che non li rivedrà più discorso che inizia con l'evidenziazione di come paolo si sia comportato e abbia servito il signore vale a dire con abnegazione e con umiltà abnegazione perché fu pronto ad affrontare le lacrime le sofferenze senza mai rifiutarsi di fare ciò che dio gli chiedeva di fare anche quando questo gli costava gli costava soprattutto in termini di sacrificio e di persecuzione umiltà nel senso che paolo non cercò mai la sua propria gloria non cerco mai di mettere se stesso al centro ma fece quello che ogni vero credente deve fare cioè celebrò innalzò e presentò sempre solo ed esclusivamente il nome di cristo credo che anche questo sia un segno che caratterizza i veri servitori di dio e credo che sono cose che dobbiamo tenere bene in mente perché come dirà egli più avanti sorgono e sorgeranno falsi profeti falsi dottori e falsi uomini di dio paolo non lo era paolo era sincero nel servire dio e nel fare la volontà di dio e allora si trovava un bivio della sua vita perché doveva partire per andare a gerusalemme e quello che lui dichiara è che ci va legato dallo spirito senza sapere le cose che la gli sarebbero accaduto accadute scusate quello che sa è che ovunque sarebbe andato avrebbe dovuto affrontare catene e tribolazioni legato dallo spirito sì lo spirito di dio ci spinge quando dobbiamo servirlo delle volte a fare delle cose che non vorremmo fare ci presenta delle opportunità che magari noi pensiamo non essere le migliori dobbiamo imparare a affrontare tutte le circostanze che si presentano nella nostra vita quando queste sono nel piano di dio e se anche è vero che dobbiamo attraversare momenti in cui il dolore si presenta nella nostra vita e dobbiamo delle volte sostenere delle prove delle circostanze che sembrano essere più grandi di noi se siamo nel signore e siamo certi che potremmo affrontare tutto senza subire danno alcuno perché il signore è quello che libera i giusti dalla prova lo fece con i tre amici di daniele lo fece con daniele stesso lo fece con pietro lo fece con paolo in tante circostanze l'ho fatto con tutti coloro che si sono disposti a fare la sua volontà e in ogni caso ci dobbiamo ricordare che il fine della nostra fede non è l'eternità su questa terra ma l'eternità nel cielo nella gerusalemme celeste e grazie a dio che l'eternità sarà lì se noi dovessimo vivere su questa terra dove ci sono spine e triboli dove ci sono sofferenze dolori malattie lutti lacrime piante o pianti credo che ci stancheremmo presto e invece l'eternità sarà qualcosa di ben diverso lì il dolore il pianto la paura non ci saranno più perché saremo sempre col signore non ci stancheremo di vivere lì tante persone quando sono su questa terra delle volte invocano addirittura la morte tanto che sono afflitti e sconsolati noi non siamo di questi noi non cerchiamo la morte noi cerchiamo la vita e siamo grati a dio per la vita ma è anche vero che ci sono dei momenti in cui siamo talmente addolorati che forse l'anima nostra è appesantita al punto tale che preferiremmo andarcene col signore tutti gli uomini di dio a un certo punto hanno detto che erano sazi di giorni basta leggere la storia di abramo di sacco di giacobbe e questo derivava dal fatto che appunto le fatiche di questa terra erano tante nel cielo fatiche non ce ne saranno perché la fatica non ci sarà più essa è una conseguenza del peccato di eve di adamo e questa conseguenza verrà distrutta insieme alla morte nel giorno in cui cristo trionferà e instaurerà il suo regno eterno paolo si affida quindi alla guida del signore e affronta anche questo perché vuole condurre a termine il servizio che gli è stato affidato da parte del signore e dio dia grazie anche noi di saper affrontare le circostanze avverse portare al termine tutto quello che abbiamo iniziato per la gloria di dio i servizi che svolgiamo nella chiesa sono diversi quello che è importante e che ciò che iniziamo e che nella volontà del signore non rimanga una sorta di opera incompiuta ma possa veramente essere portata a compimento così come il signore che ha iniziato un'opera in noi la porta a compimento quello che preoccupa paolo il fatto che sarebbero sorti in mezzo a loro persone che avrebbero cercato di deviare la fede dei semplici credenti dalla grazia di dio e per questo incarica quegli anziani che aveva dinanzi a custodire l'igreggio del signore e ad essere attenti per evitare che potessero questi falsi profeti prendere piede e con le loro false dottrine allontanare le persone dalla santa via dell'evangelo il rischio c'è ancora oggi ed ecco perché è importante leggere la parola rafforzare la propria fede meditando le scritture ed è importante coltivare la comunione fraterna pregare il signore e cercare aiuto a dio per poter rimanere fermi nella grazia del nell'evangelo del nostro signore Gesù Cristo che possa oggi il signore ancora proteggere le nostre menti e il nostro cuore dalla malvagità dalla corruzione dalle false dottrine in modo tale che quando questo mondo lasceremo lo possiamo lasciare con la consapevolezza che stiamo entrando nella gloria eterna e che la grazia di dio veramente oggi possa riposare sulla vita di ognuno di noi e la sua forza e la sua potenza ci possano accompagnare che dio ci benedica fratelli e sorelle se a dio piace ci incontreremo ancora domani bacio del signore